ciao a tutti ragazzi sono gabriele questo nuovo video oggi è il primo dell'anno primo gennaio 2020 e vi volevo augurare buon anno a tutti allora ovviamente spero che stiate passando un bellissimo capodanno che vi stiate divertendo da morire non ubriacatevi bevete allegramente ma senza ubriacarvi quindi responsabilmente metterò altri video sia sul canale di gabrie motors che su quello di elettro gabrie 16 quindi non mancate state tutti davanti allo schermo e vedrete dei nuovi video io vi mando un grande saluto un grande abbraccio a tutti vi auguro il meglio e quindi tantissimi auguri un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao